Un progetto di cooperazione trasfrontaliera che promuove lo sviluppo di piani di adattamento su nuove e aggiornate informazioni meteorologiche e oceanografiche per il mare adriatico, un modo per adattarsi agli effetti del cambiamento climatico e trasformare potenziali minacce in opportunità economiche, presentato a Termoli, Adria Klim, che vuole sviluppare strategie per mitigare gli impatti sulle aree costiere e marine a rischio, particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Presentiamo nella sede di Termoli, quindi nel comune di Termoli, il progetto Adria Klim. Il progetto Adria Klim è un progetto di cooperazione Italia-Croazia e vede la partecipazione di numerosi partner, sia istituzionali, quindi con competenze locali, sia scientifici. Questo progetto tenterà di redigere le linee guide per il piano di adattamento climatico sulla zona costiera della nostra regione, in più già ha realizzato un prodotto che è la stazione meteo-ondametrica di Termoli. Questa è una stazione che è stata già installata ed è presente qui di fianco alla sede dove ci troviamo oggi e è tra le più complete dal punto di vista della sensoristica. è una stazione che raccoglie sia parametri meteo, sia parametri ondametrici, ma soprattutto parametri di qualità delle acque, quindi riesce a mettere insieme tutte queste informazioni in un unico punto. Tra gli obiettivi è anche quello di pianificare un adeguamento della fascia costiera per un'economia blu sostenibile basata su informazioni accurate e affidabili. Questo progetto cercherà di andare a individuare quelle che sono le criticità, ma in realtà fare uno studio sugli ecosistemi costieri e vedere quali sono gli stress e quindi i punti di pressione su questi ecosistemi per cercare di combinare gli aspetti di tutela con gli aspetti di sviluppo turistico ed economico.